Nuovi centri di aggregazione e riparo per la marineria, servizi igienici, ripulitura delle pietre e della banchina, una pensilina per riparare dalle intemperie, i marinai intenti ad aggiustare le reti. Sono solo alcune delle peculiarità del progetto di riqualificazione delle due banchine nord e sud del porto canale di Pescara, redatto dall'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale attraverso il bando FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittime e la Pesca della Regione Abruzzo, con un investimento di 552 mila euro su un finanziamento complessivo di 1,3 milioni per i quattro porti abruzzesi. Il progetto servirà a migliorare l'operatività di un comparto che in città occupa 240 persone con una produzione 2016 di 565 mila chili di pescato, con un fatturato di oltre 3,3 milioni di euro e realizzato con l'impiego di 87 pescherecci iscritti all'ufficio locale marittimo. Un segmento importante e rilevante della nostra economia cittadina non solo in base ad una dimensione storica ma anche e soprattutto in base ai volumi economici sviluppati. Quindi pensiamo che questa sia un'infrastruttura a servizio della piena fruibilità del fiume, delle sue banchine e quindi del porto e pensiamo che sia un'occasione felice, che sia cosa buona e giusta. Sono iniziati i lavori di Dragaggio e il sottosegretario Rizzi ha detto ho trovato una situazione disastrosa a Pescara, di chi è la colpa? Guardi, sarebbe molto, come dire, io non mi voglio lanciare inutili polemiche col governo nazionale, però io penso che quando tu sei governo la devi smettere di fare l'opposizione perché i problemi ti competono e quindi credo che sia il caso di prendere seriamente sul serio un dossier che certamente non nasce oggi, che va a lungo in corso e per questo bisogna non, come dire, invocare o dimenticare i dossier e presentarsi nuovi di lotte e di governo ma maneggiare le questioni con la costanza degli uomini e delle donne di buona volontà.